questo è suo sì questi due la porta di babba natale vediamo un po cos'è prima i due poi quello di marghi dai apri piace piace che cosa è questo ti piace poi 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 piano che cos'è gira un po gira un po poi questa è di marghe ciao a me saluta vai apri nooo non ti credo piace è bellissimo fai vedere aspetta no dopo quello grande apri prima che si fa giù gira tagli questo qua gira tagli questo qua davanti gira tagli che cosa è questa è un cento famiglia vedere bellissima no 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 vieni qua vieni qua fammela vedere mettila qua mamma mia vieni qua oh oh piano oh 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 fammi dire ammirare mi piace gira laggi la gira lato mio uh uh contenta noo non ci viene dai manda un bacio dai stavolta non ci credo dopo Natale ci credo ma è bella secondo te per me è un stupendo aspetta te lo giuro sono senza parole te lo giuro vabbè ti mando un bacio a tutti non ci credo